Un cordiale saluto a tutti voi e benvenuti a questa puntata di Talk Sicilia, il nostro tradizionale approfondimento dedicato a vari temi, diciamo, della politica o della cronaca cittadina e regionale. Qui con noi oggi per parlare di un tema caldo come quello dei rifiuti c'è il Presidente di Rappo Giuseppe Todaro, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. E allora molti palermitani avranno notato, diciamo, la ricomparsa di alcuni cumuli di spazzatura, purtroppo un problema di lungo corso, è cambiata la governance, qual è la situazione Presidente? Ci dia un suo bilancio. Buongiorno a tutti di nuovo, grazie dell'invito. Allora, come tutte le aziende municipalizzate, che c'è una nuova governance, il mio approccio iniziale è stato di verificare una specie di udizione generale, un po' come lo stato dell'arte dell'azienda e in che cosa bisogna intervenire. Ma prima di entrare, diciamo, nel merito, che poi ne parleremo dopo, di quello che sono le prospettive future, rispondo alla domanda che in questi giorni, più che altro la settimana scorsa, perché grazie al cielo lo stiamo rientrando, in questi giorni c'è stato un aumento, specialmente nelle periferie di accumulo di indifferenziata, dovuto principalmente a un fattore. La RAP, ahimè, da anni, versa in una situazione del personale molto sofferente. Tenete conto che ai tempi dell'AMIA, quando è diventata RAP, l'organico manteneva circa 2.400 persone, anzi quasi 2.500 per essere precisi. L'attuale organico, posta di 1.500 persone. C'è stato un calo di 900 unità. Quasi 900 unità. Aggiungiamo che sono passati 10 anni, che indubbiamente in questi 10 anni c'è un deterioramento generale, anche perché il lavoro è molto usurante, e infatti ci sono anche una fetta di inabili a varie biologie che non permettono di fare alcune attività. La somma di tutto questo chiaramente crea il problema che gli itinerari che fanno giornalmente cose sono al limite del personale. Quindi tenete conto che a volte ci sono itinerari che ci sono 12 autisti, 12 camion e 12 autisti. E capite bene che nella fisiologia della normale gestione aziendale mancano 2-3 persone e già l'itinerario non viene completato. Cioè questo ha costretto ovviamente gli operai di RAP a continui straordinari. Esattamente il problema è questo. A seguito di questa mancanza atavica del personale siamo, devo dire un po' a malincuore, ma non da parte nostra, da parte di tutti, delle organizzazioni sindacali delle nostre, a chiedere alle persone doppi itinerari, doppi turni straordinarie, non possibilità di andare in ferie, scusate. I domenicali, perché in teoria la domenica non dovrebbe raccogliere la RAP da programma, perché non è previsto nel contratto di programma o quanto deve essere molto limitato, ma a causa di questi problemi anche la domenica viene fatta dalla raccolta. Tutti questi accordi erano in scadenza, nel rinnovo sono state fatte alcune modifiche per migliorare le performance di questi itinerari o di queste valutazioni di variazioni di itinerari e c'è stato un avacazio di un paio di giorni che non è stato assolutamente uno sciopero o una contestazione, è stata una mancanza di personale che non faceva questi doppi turni e chiaramente c'è stato, credetemi, tre giorni sono bastati per creare una situazione di criticità in alcune zone importanti. La domanda che uno si pone chiaramente è, ma c'è un'alternativa a questi straordinari, perché sembra quasi, evocando anche una battuta palermitana tipica, lo stipendio è dovuto ma il lavoro è a parte, ma c'è un'alternativa a dover elargire questi straordinari agli dipendenti in rap, qual è la soluzione? Ma è indubbio che questa non è una soluzione, è ovvio. Primo perché intanto si dà, e posso dire che magari solo al vero, come in tutte le aziende, in tutti i gruppi del mondo, ci sono quelli che lavorano, quelli che lavorano meno, quelli che non vorrebbero fare nulla, ma vi posso assicurare che la rap, il grosso della gente lavora, ma detto questo non è la soluzione. La soluzione è quella che si sta mettendo in campo con il nuovo piano industriale, esattamente l'assunzione di persone, perché del resto il lavoro della raccolta e dell'igiene è legata alle persone, cioè tu puoi modificare tutte le piante organiche, puoi riorganizzare l'azienda come vuoi, ma se non hai gli uomini, do un dato, lo spazzamento, inizialmente erano 600 persone per coprire un spazzamento manuale, c'era un organico di 600 persone, però ce ne sono 100, alcuni sono stati utilizzati anche in altri ambienti, ma la mancanza di persone, fate conto che mediamente 70, 60, 80 persone all'anno vanno in pensione in rap, quindi l'unica è quello che si sta già seguendo, ed è l'assunzione delle persone, come si sa ci sono due concorsi in questo momento. Il concorso per gli autisti e il concorso per gli operatori, a che punto sono queste procedure? Esatto, allora il primo concorso, quello degli autisti, ieri si è completata la selezione dei colloqui orali, quindi si è fatto un primo elenco delle cose, fra una quindicina di giorni si faranno le prove pratiche per tutti i 200 circa che sono i selezionati, dopodiché si comincerà a avviare il percorso per l'assunzione. Sul fronte dei 306 dipendenti invece? Sui 309 siamo tra virgolette un po' più indietro, non perché siamo indietro perché è partito dopo ovviamente, sono arrivati 18 mila domande, un numero importante, la commissione questa settimana si è, perché io sto forzando molto la mano sulle velocizzazioni, per quello che è possibile ovviamente, la commissione si è riunita e ha stabilito i criteri per le domande, per la prova scritta, stiamo facendo una selezione velocissima per nominare l'agenzia perché non sarà una cosa che faremo all'interno per ovvi motivi, di opportunità non credi di preparazione, 18 mila domande, capite bene che è anche complesso gestire e che quindi a breve, speriamo nell'arco di un mese, si comincerà ad avviare anche questo percorso e presumibilmente l'obiettivo nostro è entro l'anno di avere anche questo personale. Quindi entro l'anno si avranno sia gli autisti che i nuovi operatori? Gli autisti direi, mi sento di dire al 100% con certezza e presumibilmente se non ci sono intoppi e gli intoppi non riguardano ovviamente eventuali ricorsi perché i ricorsi seguono la loro strada e poi ci saranno delle modifiche da fare, le faremo in corso d'opera, noi non fermiamo il concorso per eventuali ricorsi, doverosi e ci mancherebbe che ognuno degli eventuali esclusi lo possesse decidere di fare, ma continueremo. Quindi non dico ottimisticamente, realisticamente anche il secondo concorso dovrebbe andare in match per questo, è chiaro che questo cambia proprio la prospettiva stessa dell'azienda. C'è un problema nella raccolta dei rifiuti in città, ci sono particolari zone che sono più soggette all'abbandono di rifiuti ed incompranti, mi riferisco a quelle che il suo predecessore ha definito zone di confine, soprattutto le aree a sud e a nord del capoluogo siciliano, c'è un tema del controllo del territorio in città? È indubbio che c'è un tema, queste due zone correttamente, nord e sud sono due zone di cosiddetta migrazione, per il non è detto ai lavori è molto semplice, i comuni limitrofi sono tutti con la differenziata, con percentuali molto anche importanti, purtroppo il mal costume che è generico, ahimè, porta alcuni cittadini di quelle città, di quei comuni a riversare i rifiuti non differenziati, quindi l'indifferenziata, presso i siti di ingresso della città, sia a nord sia a sud, questo comporta due tipi di problematiche, un enorme aumento di energia e di uomini da parte della RAP, che chiaramente viene elevata all'ordinarietà del lavoro, quindi lei capisce che se io devo uscire 20-30 mezzi solo per coprire questa migrazione, è energia già esigue che abbiamo nella RAP da levare all'ordinario e alla pulizia e al decoro della città nostra, al discapito di questo fattore, questo è un problema, andando alle soluzioni, perché se no parliamo solo dei problemi, come quello del personale, le ho detto, qua stiamo lavorando su vari fronti, è in corso di stesura, o per meglio, abbiamo fatto già il protocollo, ora stiamo definendo gli ultimi dettagli per la firma, tra Polizia Municipale, Polizia Provinciale e RAP in merito al controllo del territorio, che significa? Solo la concomitanza dei forze di Polizia e noi forse possiamo riuscire a mirare la situazione, perché le telecamere, che è un tema sicuramente di mitigazione del problema, non è la soluzione, perché la gente non si interessa a questo. Ecco, spieghiamo qual è il problema del sistema di videosorveglianza, in molto la evocano, però molti addetti ai lavori, anche consiglieri di circoscrizione, ci spiegavano che in realtà non sono un deterrente così efficace, perché spieghiamolo anche alla gente a casa. Il motivo è molto semplice, a, intanto il più semplice, tu vedi la telecamera e butti le cose 20 metri avanti rispetto alla telecamera, quindi siccome le telecamere sono molte volte a vista, perché devono essere avviste, perché devono essere avvertiti che ci sono le telecamere correttamente, tu le vedi, ti sposti 20 metri e butti le telecamere, tu sposti la telecamera di 20 metri e loro ritornano indietro di 20 metri, questo è uno dei temi, primo. Secondo, se sei a piedi e non hai mezzi, nessun tipo di sanzione si può venire fatta, perché a piedi non è che c'hai un'indificazione visiva o una targa e quindi niente. Nel caso in cui ci sono i mezzi, anche lì ci vogliono tutta una serie di autorizzazioni complesse da arrivare, dico che si ottengono delle multe, ma purtroppo va detto che la multa che si incassa pure, perché Palermo con le telecamere che ha messo il RAP l'anno scorso ha incassato più di 600 mila Euro, ma non risolve il problema, perché la gente da questo punto di vista ha poco interesse, mitica il problema, non diciamo che non lo azzera, la strada è lo sforzo comune di tutti, a parte quello informativo, quindi non è solo repressivo, perché in generale quella è la soluzione, informare il cittadino, quindi cercare di educarlo a quello che è il giusto utilizzo dello strumento di conferimento del rifiuto, ma io ti informo, ti aiuto, ti spiego ti agevolo, ti pulisco, perché devo essere pulito, perché se no la gente dice io non ho un servizio e quindi non lo faccio, quindi questo sarà uno sforzo che faremo noi, infatti nell'accordo faremo questo, ma devo reprimere. Il controllo del territorio, purtroppo mi dispiace dirlo, ma non ce ne sono molte soluzioni da questo punto di vista, quindi lo sforzo deve essere congiunto, infatti la Polizia Provinciale che si è aggiunta nel gruppo, dato che la Polizia Municipale purtroppo ha pochissime risorse da utilizzare, però credetemi stanno rendendo tutti uno sforzo perché ci credono che le cose possano migliorare, la Polizia Provinciale ha assunto da poco dei giovani che vuole adibire, siccome proprio la Polizia Provinciale ha proprio nel loro core business l'ambiente e quindi loro sono molto interessati a questo e per quindi questa è una strada che stiamo provando, ci riusciremo ai posti di largo sentenza. A proposito di città metropolitana, nei giorni scorsi si è aperto un altro grande fronte sul tema dei rifiuti, ovvero la crisi derivata dal caso Oicos che praticamente ha limitato i conferimenti, lo spieghiamo anche qui ci sento a casa, dei oltre 30 comuni della provincia di Palermo che conferivano a Trapani i servizi, che al momento non possono conferire a Palermo per i ben noti problemi di Bellolampo, dove la settima vasca non è ancora pronta e dove il TMB è ancora diciamo deficitario, lavora in mezzo servizio, ecco come mai questi ritardi, spieghiamo il perché di questi ritardi della settima vasca che doveva essere pronta addirittura a luglio in un primo momento, c'è stata una mancata comunicazione con la regione, cosa è successo? Allora, chiaramente il rap in questo è di riflesso, non è diretto, vi devo dire che in questi giorni che abbiamo fatto vari riunioni con la regione ho trovato massima collaborazione, però la storia va detta, la regione lei, la settima vasca doveva essere pronta nel 2018, se dovessimo vedere, male che vada con tutte le relazioni nel 2020, siamo nel luglio 2023, purtroppo è inutile negarlo, ci sono stati una variante importante, probabilmente non si sa se è un errore progettuale o una necessità operativa quando si è fatto il cantiere, variante che ha dilatato i tempi in modo esasperato e soltanto 15 giorni fa si è definitivamente bloccato e devo dire con l'aiuto di tutti, noi abbiamo prestato molto, io personalmente poi sono andato negli uffici perché ritengo che per noi è dirimente rispetto a questo problema di Palermo perché sappiamo bene cosa comporta per una città come questo non potere conferire rifiuti nella sua discarica, ma dovete utilizzare le discariche esterne, ammesso che ce ne siano perché poi il problema non è solo questo. In Sicilia sicuramente la carenza di impianti è un tema evidente, ovviamente il pericolo è quello degli estracosti. Estracosti, diciamo che è chiaramente quello il pericolo, noi stiamo facendo di tutto e di più in tutti i tavoli per cercare di evitarlo questo problema. Ottimisticamente quando sarà disponibile la prima tranche della settima e poi la vasca definitiva perché poi c'è anche questo grande tema. Allora diciamo che ormai per la prima tranche della vasca che ci mette al riparo il tempo che competono l'altra, diciamo in un mese, un mese e mezzo diciamo ci hanno dato assicurazione e devo dire l'impresa e l'assessore su pressione anche dell'assessore Di Mauro che ringrazio insieme al Presidente Schifani che si sono predicati anche personalmente, l'impresa ha dato anche disponibilità ai doppi turni anche di notte e giorno, sta cercando di reperire i materiali che mancano nel modo più veloce in modo tale da velocizzare al massimo la consegna Diciamo il processo, almeno è partito, questo possiamo dire con certezza che oggi c'è un orizzonte rispetto al passato che mancando delle autorizzazioni l'orizzonte non c'era. Ecco sempre su Bellolampo, qualche mese fa c'è stato questo sopralluco di Arpa che ha riscontrato alcune difficoltà, alcune sono state risolte come i rifiuti che erano depositati nello spezzale del TMB che sono stati eliminati del tutto, altre però sono ancora in ballo, fra cui c'è il TMB che avevamo nominato poco fa, un impianto che è stato soggetto qualche mese fa ad una lettera dell'assessore Pagana che vinco le conferimenti in settima vasca alla riparazione del TMB. Quando potremmo vedere il TMB funzionare? Allora, su questo tavolo ci stiamo lavorando perché il TMB è già in funzione, non è al 100% della sua cosa, non vuol dire che lavora male, perché su questo già si è lavorato, sono stati fatti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, non un revamping che invece è in corso, ma sono stati fatti gli interventi di manutenzione ordinaria, barra straordinaria per metterla in funzione regolarmente, con alcuni cambi di alcune parti che non funzionavano bene, quindi oggi il TMB funziona, dovrebbe produrre una quantità che in questo momento non riesce a produrre, ma sufficiente, infatti ecco motivo perché siamo principalmente copre sulla città di Palermo per la città di Palermo, quindi da questo punto di vista contiamo con la regione a divenire a una, speriamo, questo chiaramente non dipende, dipende da tutti gli enti, superare questo problema, in attesa invece di migliorare ulteriormente il TMB con il revamping che Gara ha già affidata, che migliorerà proprio il funzionamento stesso. Tempistiche? Un 3-4 mesi per quanto riguarda il TMB, di lavori, poi diciamo il tempo di, ci stanno autorizzando uno stoccaggio provvisorio in attesa di poter fermare l'impianto, un TMB provvisorio, diciamo, c'è una parte tecnica che noi stiamo curando velocitamente, c'è una parte burocratica che abbiamo sollecitato e devo dire che nel tavolo abbiamo trovato anche disponibilità, capendo le necessità impellenti da parte di tutti gli enti. Sul polio infantistico di Bellocampo ci saranno nei prossimi anni tantissimi investimenti, c'è un piano investimenti grossissimo, il grande tema irrisolto per la città di Palermo è quello della raccolta differenziata, che in questo momento si attesta intorno al 20%, arriva al 30% con tutto il dato della provincia, è un tema dolente per Palermo, ci sono degli investimenti previsti, delle manovre previste anche nel futuro piano industriale, così ci ricolleghiamo anche a quello che è il futuro. Assolutamente, infatti è bene parlare del futuro. Allora, noi stiamo proprio in questi giorni definendo e presenteremo la prossima settimana a tutti i nostri partner tra comune, il nuovo piano industriale. Il nuovo piano industriale prevede, come già era in campo, noi l'abbiamo soltanto rimodellato e reso operativo, un cambio epocale per Palermo, perché la differenziata passerà a quasi il triplo delle persone che ci sono, coprendo quasi tutta la città. con questo, il POM Metro che il comune ha messo in campo e che proprio in questi giorni stiamo proprio collaudando con i nostri tecnici, abbiamo nominato già tutti i tecnici insieme al comune, all'assessorato all'ambiente, quindi all'assessore Mineo, tutto quello che sono le attività propedeutiche alla messa interna di un investimento importante, perché noi parliamo di 60 milioni di euro di finanziamenti che sono già in corso e che quindi porteranno a aumentare in modo significativo e speriamo definitivo la differenziata in Palermo, perché lavoreremo molto sulla comunicazione, che faremo in modo preventivo e in linea con quello che sarà la partenza, quindi tutta la parte nord della città, come da programma, già sarà nel nuovo piano e anche grossa parte della parte sud, riempendo e anche colmando quelle lacune di aree fatte a metà, purtroppo ci sono alcune aree di Palermo che sono state interessate da differenziata però a macchia, che ha creato una serie di migrazioni, via paruta per dire un tema, dove una parte di via paruta è differenziata, l'altra parte no, il che comporta ovviamente molta migrazione interna, perché la migrazione non è sola esterna, a volte è anche interna, con un ulteriore sforzo per la città. C'è una migrazione di rifiuti da quelle zone che sono copertate a differenziata verso altre che non lo sono. Che non lo sono, per lo stesso motivo della migrazione extra, guardi il problema della… e quindi con questo stavo dicendo, poi aggiungo altro, con questi finanziamenti nel piano industriale proprio leviamo i cassonetti, perché è il tema principale, leviamo i cassonetti alla città, poi siccome la città è variata, è variegata scusate, non è tutto uguale a differenziata, in alcune parti sarà porta a porta, in alcune parti di prossimità, ed è importantissimo fare passare un messaggio, utilizziamo i CCR, perché sono funzionanti, operativi, li aumenteremo, stiamo lavorando per aumentarli al doppio di quelli che sono… Ad oggi quanto ce ne sono? Ce ne sono sette, ora stiamo ampliando gli orari, in alcuni siccome non aprile di pomeriggio stiamo sforzando, nonostante la carenza di personale, di aprirli pure di pomeriggio, perché ce l'hanno richiesto, ma li vogliamo raddoppiare, diciamo l'obiettivo col comune è raddoppiare perché è un percorso virtuoso, dove ci auguriamo, in un virtuosismo amministrativo, di poi poter finalmente dare seguito anche al cittadino onesto, corretto, di dargli una premialità, quindi la famosa premialità di abbattimento dei datari su una tessera a punti, poi vedremo di metterci qualche cosa… Quindi concretamente più si differenzia e meno si paga, questo è il concetto. Questo è il concetto, è la premialità, io devo da una parte fustigare e punire e reprimere chi nelle 110 giornaliere, 110 siti abusivi di rilascio rifiuti che ci sono, 110, un numero è una risorsa enorme per la RAP e anche questo che è inviato all'ordinarietà, ma devo premiare correttamente chi invece va nei centri raccolta, chi fa la differenziata corretta, perché il cittadino va anche correttamente, il primo io premiato per questo. Ci avviamo verso la conclusione, ovviamente si è parlato poco fa di contributi, risorse economiche, l'ultima domanda inevitabile è sui bilanci dell'azienda, un tema sul quale si è aperta anche una polemica mossa dal ragioniere generale del comune che più spesso, più di una volta si è lamentato di alcune criticità sia sul fronte di RAP che sul fronte AMAT, come stanno i bilanci? Allora, noi chiuderemo il bilancio 2021 e il 2022 che stiamo per licenziare anche in positivo, è chiaro che tutte le vicende ex AMIA con le transazioni fatte nel 2022 hanno pesato in modo importante, allora abbiamo chiuso la vicenda e speriamo che con un nuovo piano industriale, con una visione aziendale prospettica, dove mi lasci dire solo in un minuto, Bello Lampo deve diventare una risorsa, cioè la differenziata per noi deve essere in inizio probabilmente un costo, ma in prospettiva una risorsa, tutti gli impianti, biogas, termovagliatore, utilizzo degli ingombranti e tutte queste attività che possono portare un costo iniziale, ma sicuramente poi un ricavo, possono generare profitto e quindi migliorano le performance della stessa azienda, perché noi dobbiamo essere residuali nella discarica, tutto il resto lo dobbiamo differenziare e farlo diventare per noi un interesse economico. Anche perché ricordiamo che ci sono degli obiettivi europei da raggiungere, il primo è entro in 2025, quando dovremmo differenziare il 55% di raccolta differenziata. Speriamo di arrivarci, amici e spettatori, nel frattempo non possiamo che ringraziare il Presidente Giuseppe Totaro per essere stato qui con noi. Buongiorno, grazie a voi, la RAP speriamo nei prossimi anni di parlare di cose positive e non di criticità, questo è l'obiettivo nostro, ci proveremo, lo sforzo è enorme, ma lo sforzo non è solo di noi, di tutti i cittadini onesti, che io dico sempre è la stragrande maggioranza. Noi ce lo possiamo solo augurare, nel frattempo vi auguriamo buona giornata e continuate a leggersi su due colonne i blog Sicilia.